Buonasera Milano, video di oggi Juve-Lione. Vediamo come ha preparato la partita Sarri e come ha preparato la partita Rudy Garcia. Sarri ha schierato il consueto modulo 4-3-3, dovendo rinunciare a Dybala ha schierato un tridente con Bernardeschi, Higuaín e Cristiano Ronaldo. Mentre invece il Lione ha schierato un 3-5-2 molto attento con Depay in attacco e Awar in gran spolvero, mezzala nel Lione. Garcia ha preparato una partita più nella sua metà campo che altro, quindi aspettando la Juve, sapendo del possesso palla della squadra di Sarri, cercando di stringere con la Juve in possesso palla e di prendere ampiezza in fase di possesso palla. Quindi attacco in ampiezza e difesa stringendo molto, chiudendo gli spazi. Ha incartato bene la partita. La Juve ha cercato il solito possesso palla orizzontale, però insomma, come al solito, non ha creato queste grosse palle goal, specialmente su schemi. Si affida sempre comunque all'estro di Cristiano Ronaldo e comunque dei suoi solisti. Presto è arrivato il primo episodio della Var, rigore per il Lione, molto contestato. Di fatto è stato fischiato un fallo di Bernardeschi, perché il fallo di Betancourt non c'è stato. Quindi è un rigore che a me è sembrato non esserci, però insomma non ho avuto opportunità di rivedere bene il replay con questo presunto fallo di Bernardeschi. Quindi dubbio resta. Comunque a me è sembrato un errore arbitrale. 1-0 di Depay, rigore con Scavino. La reazione della Juve non c'è stata, una squadra svuotata, una squadra spenta, una squadra poco organizzata, incapace di portare pericoli alla porta del Lione. Molto nervoso Betancourt, che avrei ammonito prima. Alla fine è stato comunque sanzionato, verso la fine del primo tempo, per un pestone a un giocatore del Lione. Male comunque Betancourt oggi, a parte il fatto di essere stato molto falloso. Verso la fine del primo tempo, regalo dell'arbitro, rigore inesistente a favore della Juve. Qualcuno dice per compensare, tocco di mano che non può essere da rigore neanche con le nuove regole. Comunque rigore di Cristiano Ronaldo 1-1. Tutto il secondo tempo per cercare i due gol e potersi qualificare. Di fatto la Juve ha continuato ad attaccare in modo sterile, ma grazie a Cristiano Ronaldo è prevenuto al 2-1 con un sinistro da fuori. Per la verità non un tiro imparabile del portoghese. Il portiere ci è andato con la mano di richiamo. Insomma, un regalo di Lopez, 2-1 per la Juve con Cristiano Ronaldo, che comunque si è dimostrato un fattore anche oggi. Successivamente sì, la Juve preme a due o tre buone occasioni. Una con Bonucci di testa che sbaglia, clamorosamente direi. Un'altra palla goal con Higuain su cross di Ronaldo e un'altra con lo stesso Ronaldo che poteva far meglio. Hanno poi reclamato anche i francesi per un possibile calcio di rigore ancora. A me non è sembrato rigore. Comunque hanno protestato molto. L'arbitro non ha concesso il rigore del possibile 2-2. Considerazioni finali. Juve male. Male, Pjanic, Betancur, Higuain, Quadrado, che ha messo dentro un sacco di palloni dalla mediana, da tre quarti. Praticamente si è salvato soltanto Cristiano Ronaldo. Secondo me la Juve ha meritato di uscire. Non è la maniera di affrontare una partita così importante. Non mi piace come l'ha preparata Sarri. Squadra sempre che va molto per linee orizzontali. D'accordo, mancava Dybala. Forse con Dybala in campo sarebbe stato diverso. Lo faccio anche a voi come domanda. Però di fatto la Juve ha meritato di uscire. Diciamo che dopo nove scudetti di fila possiamo anche parlare di stagione fallimentare. Perché comunque sia l'obiettivo della Juve non è lo scudetto. È stato miseramente fallito. Non sono neanche arrivati alla solita finale che hanno comunque sempre perso negli ultimi anni. Però quantomeno arrivi in finale e te la giochi. Quest'anno sono usciti con un avversario non irresistibile. Con il loro miglior giocatore in panchina, Dembele. Penso che abbiano da essere molto delusi tifosi juventini. Chiedo a loro se Sarri va cacciato. Secondo me sì. Se questo è il gioco spettacolare per il quale è stato ingaggiato Sarri beh a sto punto era meglio tenere Allegri che pur non faceva un gioco spettacolare però insomma questa Juve di spettacolare non ha avuto nulla. sempre aggrappata alle prodezze di Cristiano Ronaldo oppure magari di Bala ma non vedo gioco corale non vedo organizzazione di gioco parlo tranquillamente di fallimento eliminazione meritata spolliciate, scrivete qui sotto che cosa ne pensate iscrivetevi al canale saluto Stefano saluto Gian Maria saluto Tommaso saluto Marco Chiodi perché Marco ce ne sono molti in questo caso saluto Marco Chiodi e un saluto a tutti per un prossimo video